segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te un quotidiano in un titolo l'ha definita livoriano senza nome mi dice che effetto le ha fatto a proposito della sua storia sa di decadenza culturale ma è chiaro allo stesso tempo che per il rispetto che ho per il mondo dell'informazione e quindi ringraziando anche vi anche voi è una situazione da stigmatizzare però che è frutto di una logica politica semplicemente negare l'esistenza dell'altra persona ma l'altra persona in questo caso è un italiano diversamente si abbronzato ma è un italiano che non è un eccessione è un italiano che non è diverso fa parte della normalità e quindi quel quotidiano farebbe bene a partire da oggi a prendere atto di questo è finito il momento in cui gli invisibili le persone che vengono dimenticate erano lì lasciati nel nulla abbiamo una mente abbiamo la capacità di analisare di ragionare e soprattutto sono contento per il mondo dell'informazione che ha continuato a lavorare nonostante tutte le condizioni difficili del nostro paese e quindi vale a dire si mettano l'anima in pace d'ora in poi c'è l'italia plurale che esiste e che per fortuna la nostra costituzione permette di esercitare ed esprimere il proprio contributo per l'intero paese senza discriminazione sia discriminazione legato all'orientamento sessuale al colore della pelle o alla diversa appartenenza è abbastanza incredibile vedo anche l'espressione paurosista che dobbiamo ricordare questo diciamo abubacar sumaoro si chiama abubacar sumaoro e poi è ivoriano di origine ivoriana prego alessio abbiamo tra poco vi mostreremo di nuovo le immagini che arrivano dalla bbc quando riandranno sto vedendo in assegnazione al castello di balmoral dove abbiamo assistito